Una nuova vita dopo le grandi difficoltà degli ultimi anni, il centro commerciale di Modugno nel Barese riparte con l'investimento di Maiora, concessionaria del marchio Despar per il centro sud che ha rilevato le attività dismesse da Oshan e non rilevate da altri marchi che avevano lasciato la struttura a un futuro incerto. Questa apertura ha un valore simbolico sia per la comunità di Modugno perché rappresenta forse un suo sfido di sollievo non solo per i dipendenti che lavorano con noi e che hanno trovato stabilità con questa apertura ma anche per tutto l'indotto del centro commerciale che inevitabilmente avrebbe risentito di una chiusura definitiva. Noi invece abbiamo voluto rilanciare, creare in questa struttura un tempio del gusto, un tempio del cibo dedicato completamente alle eccellenze del nostro territorio, della nostra professionalità e del nostro know-how nel proporre alimenti di qualità e a prezzi convenienti. 3.000 metri di puro gusto. Una riapertura che ha anche un risvolto importante dal punto di vista occupazionale visto l'assorbimento di 76 ex dipendenti rimasti senza lavoro dopo la dismissione da parte di Oshan. Riteniamo di aver avuto un ruolo importante nel ridurre l'impatto dell'avvertenza Oshan qui in Italia e in particolare da noi in Puglia. Abbiamo creduto sin da subito in questo progetto nonostante non fosse semplice, nonostante le mille difficoltà dettate anche oggi dal problema del Covid, ma noi siamo convinti che questa struttura abbia le potenzialità per affermarsi come un riferimento non solo per la piazza di Modugno ma direi per la città di Bari. Grazie. Grazie.